Lei da 50 anni vive nel calcio italiano, ha portato talenti in Serie A, conosce molto bene il mondo giovanile, i vivai. Oggi club italiani, come si comportano con i giovani calciatori? Guarda, è molto semplice. Tutti i genitori pagano per far giocare ai figli. Pagano più o meno 30-40 mila euro. Pagano presidenti, dirigenti e allenatori. Ed alcuni allenatori addirittura trovano il posto di lavoro. Questo è praticamente quello che succede in Serie C. Ci può raccontare un caso? Sì, per esempio il Brindisi. Ha presente la dirigenza Gallicani. Lui si faceva chiamare presidente, ma non lo era assolutamente. È arrivato a luglio 2010 e è andato via a gennaio. Quest'anno sì? Sì. Addirittura a inizio stagione ha tesserato 40 giocatori tutti insieme. La maggior parte ragazzini. Molti padri chiaramente hanno pagato per farli giocare. Sempre 30-40 mila euro, quelle più o meno sono le cifre che servono. Ovviamente sostenevano così la società, ma Gallicani cosa ha pensato di fare? Si è preso i soldi e se ne è scappato. Adesso chiaramente la squadra sta fallendo. Ma oltre il Brindisi ci sono altri club nel semiprofessionismo italiano? Sì, ce ne sono tantissimi. Il discorso è questo, che le società, praticamente quelle dei semiprofessionisti, che si chiamavano così fino a poco tempo fa, fanno bilanci comunque sempre disastrati. Alle voci di cavi mettono chiaramente i cash che tirano fuori i genitori dei calciatori e poi gli sponsor che gli procura i contributi federali. Più o meno erano 15 mila euro lordi se giocavi in seconda divisione e poi circa 18 mila euro quelli di prima. In più ci aggiungiamo i contributi a minutaggio quando gioca poi l'Under 22. Guadagnano di qua e di là, quindi sempre soldi fanno. E chiaramente il presidente Macalli che cosa fa? Rimane lì a guardare e non fa nulla. Si tesserano 40 giocatori a inizio stagione e la Lega non dice nulla, non se ne accorge di niente. Cercano praticamente nei direttanti sempre ragazzini di 19 anni e fanno questi giri così. Sembra tutto pulito chiaramente. Altri club? Sì, c'è anche il Giulianova che gioca in Serie C2. Il presidente Dario D'Agostino è un produttore di uova, pasta fresca. Un imprenditore locale. Lui chiaramente fa gli affari tutti da solo, parla con genitori, procuratori e calciatori. Ha capito che il business del calcio è una cosa impressionante, i soldi li ricava di là, non dalla sua azienda. Tra minutaggio della federazione e i soldi dei padri per questa stagione ha guadagnato circa 700 mila euro. Intendiamoci, quelli che pagano sono i giocatori mediocri, quelli scarsi, quelli bravi servono troppo ai club. Quindi lei sta dicendo che i bilanci delle società di calcio in C1 e in molte club di C1 e C2 si fanno con i soldi dei padri. Soltanto con i soldi o i padri possono offrire altro? Per esempio il San Marino ha tesserato quattro giocatori quest'anno, perché avevano gli sponsor dietro che chiaramente erano i padri dei ragazzi. Ricordo un esempio, il padre del centrocampista del Sole, che è un imprenditore tipo abbigliamento, sempre locale, ha trovato il lavoro alla moglie dell'allenatore. Poi c'era un portiere, un centrocampista, sempre 30 mila euro, pagano e va in campo. E Macalli continua a guardare, non fa nulla. Macalli è il presidente della Lega Calcio, che è all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio, che dovrebbe governare tutti i fenomeni. Sul piano dei giovani la Federcalcio fa qualcosa? Loro non fanno nulla. Gravina, consigliere federale, che è anche un grande elettore di Macalli, per esempio, è ovviamente un uomo diabete. Si ricorda nelle telefonate di Moggi delle intercettazioni. Era la Calciopoli 2, quella. Pensi che il presidente dell'Arezzo, Mancini, disse che se mi assumi Tambone ti porto Ranocchia in Under 21. Guarda che carriera ha fatto Ranocchia, ora sta all'Inter. Bel giocatore, eh? Lei ci ha raccontato molti episodi di club di C1 e C2, ma lei conosce anche la Serie A. Abbiamo detto che ha portato molti talenti ai grandi club. I grandi club del calcio italiano come si comportano con i giovani? Ma guardi, io conosco benissimo la storia della capitale. A Trigoria, se non hai 30.000 euro, nemmeno ti fanno entrare. Lo disse pure il papà di De Rossi, che è allenatore della primavera. Dall'altra parte, controllate quanti giocatori vende la Lazio in promozione e in interregionale. Più o meno dai 20 ai 50.000 euro l'uno. Però poi controllate anche quanti sono registrati sui bilanci. Il problema del calcio è che oggi con i ragazzini si fanno un sacco di soldi.